La prima è la interrogazione questiontai 1083 caso Roche Novartis per due farmaci Avastine Lucentis, primo firmatario la consigliere Carcano. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Allora con questa interrogazione vogliamo mettere l'attenzione sul caso ormai comunque famoso della Roche Novartis. Come sapete ci sono due farmaci equivalenti, Lucentis che costa 1700 euro a fiala e Lavastine che costa 25 euro a fiala. Questi due farmaci sono entrati nell'occhio dell'attenzione dell'antitrust perché ha aperto un'istruttoria sul caso. L'ipotesi è che questi due multinazionali, la Roche e la Novartis, abbiano fatto cartello per tenere sul mercato italiano solo il farmaco più costoso. Il 5 marzo scorso, quindi poche settimane fa, l'antitrust ha dato una multa di 180 milioni di euro alle due case farmaceutiche per aver formato questo cartello. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto un elenco minimo di quelli che sono i farmaci indispensabili per l'assistenza sanitaria in cui sono inseriti solo il farmaco, quello meno costoso, Lavastine. Ci tengo anche a far presente che il nostro onorevole Matteo Dell'Osso, che è portavoce alla Camera, ha ricevuto anche una lettera da parte di Novartis per fare pressioni e per cercare di difendere le scelte compiute dalle case farmaceutiche. Allora chiediamo all'assessorato della Sanità qual è stata la spesa sostenuta nel 2013 dalla Regione per l'assistenza farmaceutica riguardante i due farmaci, se è stimabile o se è già stato stimato il risparmio possibile derivante dall'utilizzo invece di Avastine piuttosto che di Lucentis, se Regione Lombardia ha intenzione di avviare un'azione legale nei confronti delle due aziende farmaceutiche e se ha sollecitato AIFA per i controlli sui farmaci in questione e se oltre alla farmacovigilanza quali sono state le forme di controllo su questi due farmaci interessati dalla questione. Grazie. Grazie, la parola per la replica della Giunta per 4 minuti all'assessore Mantovani. Bene, grazie Presidente. Colleghi, riferimento all'interrogazione, va detto che nel corso del 2013 la spesa sostenuta dal Servizio Sanitario Regionale e rendicontata in Filef per il farmaco Lucentis è stata pari a circa 24 milioni di euro. Per quanto riguarda il farmaco Avastine si evidenzia che la Commissione Ternico-Scientifica dell'AIFA ha deciso nel dicembre del 2012 di escludere Avastine per l'uso intravitreale off-label, quindi fuori dall'indicazione autorizzata, dalla lista dei farmaci erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, secondo la legge 648 del 1996. Basandosi sui rischi di sicurezza del medicinale, richiamati anche da EMA e dalla concomitante presenza di un farmaco, Lucentis, specificamente studiato e registrato, per l'uso intravitreale, quindi all'interno dell'occhio. Pertanto, nell'anno 2013 non risulta rendicontato nessun importo di Avastine per uso intravitreale off-label, essendo stato vietato l'anno precedente. La competenza per la stima di un ipotetico risparmio dovrebbe essere in capo alla stessa autorità che ha autorizzato i due farmaci, e cioè l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA. Tale stima dovrebbe basarsi sul costo realmente sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale per i due farmaci, tenuto conto degli sconti di legge e dei corretti dosaggi efficaci. La valutazione comunque alle regioni interessate, comune alle regioni interessate, in ordine al concreto avvio di un'azione di risarcimento, potrebbe essere procrastinata all'esito del giudizio che è stato instaurato davanti al TAR Lazio da parte delle società farmaceutiche contro la sanzione irrogata dall'autorità garante della concorrenza. Quindi se ne è parlato anche la settimana scorsa nell'ambito del coordinamento delle regioni e si attende l'esito del Tribunale. L'attività di controllo comunque è in capo alle ASL e rientra tra le responsabilità delle direzioni strategiche delle strutture sanitarie. Tale attività è svolta in modo continuativo naturalmente in Regione Lombardia. Si ricorda inoltre che è obiettivo sia delle ASL che delle aziende ospedaliere il controllo sui farmaci ad alto custo, quale appunto il Lucentis. Si fa inoltre presente che la vicenda oggetto della presente interrogazione è stata oggetto di discussione, come vi dicevo, in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome. La conferenza, a seguito della riunione del 13 marzo scorso, ha inviato ai Ministri della Salute e al Ministro dell'Economia, con nota 1267 del 14 marzo, con la quale in esito al procedimento dell'autorità garante ha chiesto al Governo due cose. La prima, di intervenire al fine di prevedere il ripristino dell'utilizzo dell'Avastin nelle patologie oculari. Secondo, di regolamentare nel più breve tempo possibile l'utilizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione, anche in presenza di farmaci autorizzati. Queste sono le due richieste avanzate al Ministero, ai Ministeri. La proposta di cui al precedente punto 2, quindi regolamentare nel più breve tempo possibile l'utilizzo dei farmaci, dovrebbe aver trovato soluzione, lo dico anche in risposta al Consigliere Santisi, dovrebbe aver trovato soluzione con l'emanazione del Decreto Legge 36 di quest'anno, pubblicato sulla Cazzetta Ufficiale numero 67, e sono disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 90 numero 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale, questo è il titolo del Decreto, che prevede all'articolo 3, misure dirette a favorire l'impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e conseguentemente garantire una razionalizzazione della spesa sanitaria. In particolare, l'articolo citato prevede che qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per il cui utilizzo sussiste un superiore motivato interesse pubblico connesso alla tutela della salute, l'AIFA possa procedere alla registrazione della suddetta indicazione terapeutica. Al comma 4 ter, al fine di non pregiudicare la salute dei pazienti nell'emore della definizione dell'iter di registrazione, il Decreto Legge menzionato stabilisce che, anche se è disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati, è ammesso l'inserimento di un medicinale non autorizzato per l'indicazione terapeutica, per cui si ravvisa un superiore interesse pubblico all'impiego, nell'apposito elenco degli off-label. Questo per consentire che il medicinale possa essere erogato a carico del Servizio Sanitario Nazionale, qualora, a giudizio della Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, esso possieda un profilo di sicurezza con riferimento all'impiego proposto, non inferiore a quello del farmaco autorizzato e quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto dei risultati delle eventuali sperimentazioni, delle ricerche condotte nell'ambito della comunità scientifica internazionale, quindi l'intervento da parte dell'AIFA per le garanzie di sicurezza del farmaco stesso. L'inserimento viene sottolineato e è oggetto di monitoraggio da parte dell'AIFA a tutela della sicurezza dei pazienti. Inoltre, sempre nella conferenza delle Regioni, si è deciso di trovare una linea comune a tutte le Regioni per poter intervenire in maniera decisa in difesa degli interessi delle Regioni stesse. Grazie. Grazie, Presidente. Solo due osservazioni per l'Assessore Mantovani, perché ha parlato nella prima parte della sua risposta di AIFA del fatto che ha escluso Avastin dai farmaci che potevano essere utilizzati e quindi ovviamente Regione Lombardia non ha speso nulla. E poi il fatto che le stime deve comunque farle ancora AIFA e non sono ancora arrivate. E poi nella seconda parte, quando parlava della conferenza Stato-Regione, ha ripreso più volte la possibilità di intervenire con AIFA. AIFA in questo caso ha una situazione che è davvero molto ambigua, nel senso che non è più garante di quello che è la salute dei cittadini, perché se ormai si parla da almeno di un anno del caso Avastin-Lucentis non è stata in grado di dare seguito all'OMS che diceva che doveva essere utilizzato Avastin e l'AIFA non l'ha messo in circolazione in Italia. Ora chiediamo ad AIFA di essere ancora garante della salute dei cittadini. Io non credo che appoggiarci ancora ad AIFA sia la soluzione migliore, così come vorrei capire cosa sta facendo anche l'assessorato e se può spingere in tal senso per il Ministro Lorenzin, perché al Ministro Lorenzin è stato fatto notare a luglio dell'anno scorso la questione Avastin-Lucentis e lei prendeva le difese di AIFA andando anche contro l'OMS. Quindi voglio dire, visto che avete la possibilità di interagire con il vostro Ministro, perché alla fine è vostro, che la situazione non si risolve con la conferenza Stato-Regione con questa nota, che comunque leggeremo volentieri perché bisogna interagire maggiormente con chi ha delle responsabilità e il Ministro Lorenzin più volte ha preso le difese di AIFA e AIFA abbiamo visto che anche lei ha delle questioni in sospeso che andrebbero chiarite. Grazie.